Benvenuti in me molto altro, sono il me l'arancione, come sempre, eccolo qua, non è una buccia, è la verità E niente, giochiamo a Io2 contro il clown cannibale You vs Cannibal Clowns Un gioco sempre strano, sempre horror, andiamo a vedere Già è molto strano un clown con le cuffiette addosso che si mozzica una mano Andiamo a giocare, vediamo che dobbiamo fare Allora voi lo vedete in un modo un po' strano, perché non sono riuscito a metterlo tutto schermo Perciò qualche scritta magari sarà un po' messa male Vediamo come lo vedete voi, si vabbè, si vede un po' l'arancione del coso Allora, innanzitutto è uno sparatutto, e ho fatto il gioco di parole Tocca sparare clown maledetto Vediamo i proiettili, ci serviranno Ah, proprio nello stile, eccolo Ma che figata, ma non lo posso ammazzare? Dove devo andare? Devo scappare Non ci vedo niente Dove devo andare? Sto ammazzata, bello Tiè Peccata tutta Ah, là c'è stato il vampirello Io non so che cosa stia facendo Sembra, qui giochi tipo Return Ah, Wolfstein, mannaggia a te Mi ha ammazzato Io non ci vedo niente, ho la luce addosso Sto ammazzando tutti i clown però Ricarica Eccolo E questo ha ammazzato, questo no Ci sono le porte Sembra come i vecchi giochi di sparatutto di una volta Tipo Dukenuken Queste cose qua Fammi passare Eh, vabbè, non mi farei mai passare Non riesco a passare di qua Eh, sono morto Riproviamoci E vediamo com'è Ok Allora, praticamente io devo fare Allora, questa è la pozione, ok Ok Perché presente come i giochi di una volta Non c'è niente da fare È proprio fatto così Questo è un nuovo scenario Perché non ce si vede in H Via, via, via Qua c'è la boccettina Anche qua Ma lo scopo del gioco è sparare e basta? Oddio questo Ma perché no? Perché mi ha levato la pistola? Vai Li stanno accerchiando Cioè io mi sto imbriacato Le boccette qua Questa porta da Epic Ma io non c'ho la chiave Non ho trovato una chiave fino adesso Non vedo un H Qualcosa qui ci starà però da prendere La cosa bella è che non muoiono Si fermano soltanto Oh maledetto Mi ha fatto paura Non me l'aspettavo E ma una volta che io sto qua Che questo muoce di anima Per forza Cosa devo fare? Sono ritornato indietro? Vogliamo andare di qua a vedere? Mi pare che ci sia nulla Non lo so Non lo so dove devo andare Le ho presi tutte e due a questi Guarda quanti ne sono poi Ok Qua ci sono dei letti Però non riesco a capire Questo è un ambiente nuovo? No Ah ok Eccola la chiave Ok Ho trovato la chiave Perciò Cambia tutta la storia La chiave Dov'è che devo andare ad aprire? Ricarica questa pistola Allora la porta dovrebbe Eccola Non funziona Porta quanti qua Eh Mi sa che mi hanno circondato Mi sa Passiamo di qua Magari c'è un'altra porta Più Eh Sono morto Vabbè Dovete scoprire la chiave E Praticamente Poi dopo E poi non ero nemmeno morto E dopo uscire da questo incubo Allora Se vi è piaciuto questo video gameplay Mettete mi piace Condividete Iscrivetevi Attivate la campanellina Giochi horror strani Si sa che sono così Il meno arancione Vi saluta E vi aspetta nel prossimo video Video gameplay Ciao